Oggi è una giornata veramente importante in cui tutta la CIRL, nelle sue articolazioni, siamo in 500, abbiamo riflettuto su come modernizzare, attualizzare, rendere più funzionale il nostro sistema dei servizi. Lo vogliamo fare concentrandoci su alcuni capisaldi fondamentali, che è quello di essere competitivi, efficienti, rapidi a dare le risposte, sostenibilità del sistema, rigore e trasparenza. Allora occorre che tutti noi insieme, il sistema della CIRL Marche, un nuovo fatto di sindacalisti, sindacalisti impegnati nei servizi, sindacalisti impegnati nelle categorie, servizi impegnati nella Confederazione, costruiamo insieme, giorno dopo giorno, quotidianamente, in maniera certosina, un sistema CIRL che deve essere sempre più vicino alle esigenze delle persone e dei nostri iscritti, che si affidano sempre di più e con più convinzione alla CIRL delle Marche.